durante le feste di natale abbiamo fatto visita alla comunità africana anglofona che si era riunita nella domenica della sacra famiglia per la celebrazione della messa presso la chiesa del cuore immacolato di maria provengono in gran parte da nigeria e sierra leone e la messa domenicale costituisce un momento irrinunciabile del loro incontro con dio e con i fratelli le immagini si riferiscono ad un momento che è avvenuto dopo la messa come loro consuetudine nell'ultima domenica di ogni mese i membri della comunità fanno una seconda raccolta di offerte come autofinanziamento per sostenere le spese comunitarie e per sostenere le persone bisognose il sorriso e la danza che accompagna il gesto dell'offerta ricorda le parole dell'apostolo paolo chi ama dona con gioia negli ultimi tempi la comunità africana anglofona così come quella francofona si è assottigliata molto di numero perché vari dei suoi membri storici stante la situazione italiana hanno preferito percorrere le strade di una seconda migrazione non come auspicabile verso i paesi di origine ma verso altri paesi soprattutto del nord europa che offrono migliori opportunità la preghiera l'eucarestia domenicale restano però sempre un appuntamento atteso al quale partecipano con gli abiti della festa e con il cuore pieno di gioia